Clamoroso passaggio dalla Federazione della Sinistra a Sinistra Ecologia e Libertà di un esponente della Giunta di Carrara. L'assessore all'ambiente al traffico, Roberto Dell'Amico, eletto nella lista dei comunisti italiani, passa al partito di Nichi Vendola, aprendo scenari politici sino ad oggi inattesi. La Federazione della Sinistra perde dunque un assessore, assessore che peraltro non avrà alcun gruppo consigliare di riferimento, non essendo a Carrara costituito nessun gruppo di SEL. Il passaggio di Dell'Amico a Sinistra Ecologia e Libertà si inserisce in un contesto che si era già surriscaldato nelle scorse settimane, quando il circolo Giordano Bruno di Carrara Centro aveva manifestato netta contrarietà all'amministrazione Zubani, affermando di lavorare a un'alternativa di sinistra per le prossime elezioni comunali. La posizione, a quanto emerge, non fu gradita dalla segreteria provinciale di SEL, che evidentemente è corsa ai ripari, promuovendo l'adesione al partito di un esponente più vicino al sindaco e all'amministrazione comunale. Dell'Amico, da noi contattato, ha affermato per il momento di non ritenere opportuno rilasciare dichiarazioni e che spiegherà eventualmente nei prossimi giorni le motivazioni della sua scelta. Sono amareggiato e deluso per questa scelta inopportuna, ha commentato invece il consigliere comunale del PDC Nicola Marchetti. Riunirò fin dalle prossime ore il partito per valutare il da farsi.